So che abbiamo già parlato di Imperial Stout e di Pastry Stout almeno 3-4 volte dall'inizio dell'anno ma non potevo non parlare di questo famoso birreificio estone ed è per questo motivo che oggi infatti stapperò una poiala Come appunto anticipato prima della sigla siamo a Tallin in Estonia il birreificio in questione si chiama Poiala e il nome di questa birra è Coco Banger lo stile è appunto un Imperial Stout categoria 20C per avere il riferimento del BJCP grado alcolico 12,5 gradi il formato di questa bottiglia è 33 centilitri acquistata a un beer shop al prezzo di 5,90 euro il bicchiere che suggerisco per questa birra è un pallone meglio ancora uno snifter quindi un pallone col gambo corto e si si tratta di un primo assaggio il birreificio Poiala nasce nel 2011 a Tallin appunto in Estonia ha cambiato sede ma comunque sempre all'interno della città di Tallin è stato fondato da 4 ragazzi uno dei 4 soci peraltro era un manager di Skype l'azienda di Microsoft per effettuare chiamate e videochiamate loro sono i 4 soci fondatori poi si unisce alcuni mesi dopo, forse l'anno dopo, un mastro birraio tale Chris Pilkington che è mastro birraio di niente popò di meno che Brewdog, famoso birrificio scozzese dal 2011 al 2014 lavorano solo come bir firm nel 2014, aprile 2014, mi sono segnato sempre lì a Tallin, il distretto si chiama Nomme incominciano appunto, cioè finiscono la costruzione del birrificio è un birrificio inizialmente dotato di 5 fermentatori da 24 ettolitri quindi una produzione tutto sommato abbastanza contenuta in due anni e mezzo la produzione è più che quadruplicata e infatti dal 2018, meglio a fine 2018, si sono spostati sempre nella città di Tallin ma nel quartiere portuale e hanno un nuovo impianto un po' più grande le birre che hanno in linea sono principalmente birre ad alta fermentazione o quasi esclusivamente birre ad alta fermentazione c'è una particolare attenzione al mondo delle stout, delle porter alle birre passate in botte e in generale mi avrebbe da dire un po' a tutti gli stili modaiolio, comunque quello che tira tanto in quel momento quindi c'è tutta una gamma di lupolatte ma soprattutto negli ultimi anni c'è tutta una tensione sulle stout imperial stout, pastry stout, porter e così via una cosa interessante, visto che spesso poi parlo anche dell'estetica delle bottiglie poi vedendo questa bottiglia come estetica sul tappo c'è il loro logo che è semplicemente il font tutte le bottiglie hanno questo stile molto molto minimal con spesso fondale o a tinta unita o comunque con fantasia abbastanza stratte e sempre riportato solo il nome della birra, il nome del birrificio e appunto anche il logo stesso del birrificio è un font senza particolari fronzoli semplicemente chiuso all'interno di una linea bianca l'estetica delle bottiglie come dicevo appunto è diventata caratteristica è apprezzata molto leggendo online con queste fantasie una delle loro prime birre si chiamava Mustcould letteralmente significa oro nero mi ricordo che fu abbastanza discussa la cosa perché nel loro stile perfettamente minimo c'era un fondo una tinta unita molto chiara è semplicemente una fava di cacao che effettivamente poteva ricordare tutt'altro ricordava, potrebbe ricordare un po' dei genitali immagino che sia voluta la cosa anzi magari metto anche l'immagine qui in fianco per mostrarvi la discussa grafica di quella birra ricordo che all'epoca si parlò molto su qualche blog anche su molti blog stranieri soprattutto di una questione di come il mondo delle birre sia tanto legato al pubblico maschile e derive diciamo maschilista o sessista appunto di tutto ciò che è il mondo specialmente quello craft è un discorso secondo me piuttosto ampio interessante da analizzare una piccola analisi che mi sono fatto effettivamente guardando i dati su youtube per le relativamente piccole visualizzazioni che fa questo canale effettivamente il 95% del pubblico è maschile e questa è una cosa che mi spiace soprattutto perché non ci sono differenze nella percezione sessoriale che c'è maschile o femminile quindi così come per esempio nel mondo del vino c'è un pochino più di equilibrio tra le due cose sarebbe bello secondo me che anche nel mondo delle birre cadesse questa cosa comunque appunto è un discorso ampio non ho dati di riferimento per concludere sull'estetica della bottiglia appunto qui sul lato c'è scritto appunto il nome della birra imperial status coffee and coconut c'è una piccola descrizione è indicata la temperatura di servizio tra i 12 e i 16 gradi temperatura abbastanza alta ma per l'imperial stout sì anch'io a memoria ricordavo intorno a 12-14 gradi qua arrivo addirittura a 16 altre informazioni come il grado alcolico e gli ingredienti sempre tutto con una veste grafica super super minimal senza loghi particolari al di là dei simboli obbligatori quale appunto per esempio l'indicazione di non bere durante la gravidanza o di un codice a barre a proposito di ingredienti sul sito internet trovate la ricetta completa non ci sono le quantità e le proporzioni ovviamente ma ci sono tutti i malti e tutti i luppoli utilizzati in particolare per questa birra me li sono segnati perché non lo sono pochi indicato vabbè come malto base un malto pale poi c'è un malto monaco uno special B non so che tipologia di malto sia un crystal o meglio c'è scritto sia un crystal 300 sia un crystal 150 sia un crystal 200 quindi siamo malti speciali nell'ambito dei malti scuri un carafa type 2 special quindi sempre un altro malto caramello malto chocolate chocolate rye e avena quindi insomma un grist particolarmente ricco non ci è dato sapere le proporzioni ma comunque massiccio mentre per i luppoli utilizzati in questa birra sono stati utilizzati i luppoli magnum e c'è indicato un luppolo che non conosco che è HBC 472 e poi appunto è stato aggiunto del caffè un caffè proveniente dalla Costa Rica questa varietà di caffè si chiama Caturra e del cocco tostato in fiocchi quindi cosa ci aspetteremo da questa bottiglia? tutto ciò che riguarda ovviamente le stout e l'imperial stout e poi la parte legata al cocco che immagino sia caratterizzante ok direi che possiamo aprire la bottiglia adesso appena lavato il bicchiere tolgo le ultime goccioline il bicchiere è uno snifter di BrewDog vabbè brandizzato BrewDog ma è l'unico che avevo in casa in questo momento ok teoricamente ci sarebbe ancora un pochino di birra ma mi fermo qui perché il bicchiere è un po' meno di 40 faccio una velocissima foto alla birra così quando uscirà il video potrò caricare anche un post su Instagram a tal proposito se vi va vi lascio in sovraimpressione come dice il grande Mastrota l'account Instagram ok passiamo quindi all'analisi di questa birra allora cominciamo come al solito dalla valutazione visiva una schiuma non particolarmente abbondante infatti avete visto che ho alzato parecchio la bottiglia per riuscire a fargli fare un po' di schiuma probabilmente una birra come molte stout soprattutto imperial stout poco carbonata abbastanza fine come grana di questa schiuma e di un bel colore direi nocciola perché praticamente è un marrone abbastanza intenso il colore della birra è nera praticamente questo è davvero un bel nero impenetrabile quindi anche puntandola direttamente verso la luce non si riesce a vedere attraverso nemmeno nelle parti più sottili e con meno birra del bicchiere e passiamo quindi al naso allora intensità aromatica abbastanza elevata ma per mia grande sorpresa non particolarmente complessa o meglio c'è questa nota di cocco che è la prima cosa che arriva abbastanza prepotente e sovrasta tutte le altre note concentrandoci un pochino si riesce a cercare di non sentire più il cocco comunque mettere un attimino da parte il cocco e vedere se c'è dell'altro è molto difficile però trovare dell'altro oltre a questo cocco così importante appunto oltre al cocco c'è sì un generico fruttato probabilmente e della vaniglia la cosa sorprendente è che il caffè quasi non emerge cioè se mi concentro e cerco di cercare di andare a trovare il caffè sì ma non so quanto sia una suggestione personale o quanto invece davvero sia coperto da questo fruttato da questo cocco da questa generica sensazione sensazione che mi fa pensare a qualcosa di molto dolce a un liquore per esempio molto dolce ovviamente un liquore al cocco particolarmente dolce che mi è capitato di bere come al solito però appunto non sentiamo il dolce nel naso ma il profumo forse di liquore al cocco è da liquore dolce è proprio da una leggera nota liquorosa siamo comunque oltre i 12 gradi e questo fruttato e questo cocco è molto importante che dire se il caffè non era tanto presente al naso non possiamo dire lo stesso del palato dove invece è perfettamente in equilibrio con la dolcezza del cocco e comunque la dolcezza diciamo iniziale data da questa stout partendo dalla prima cosa che mi ha colpito di questa birra che me l'aspettavo particolarmente corposa cremosa e densa in realtà non lo è anzi la parola secondo me che la descrive meglio è oleosa perché si ha una discreta densità ovviamente ma appunto è oleosa in bocca ed è tutto sommato meno cremosa e meno pastri di quanto immaginassi effettivamente non è una pastri stout è una imperial stout come viene riportato giustamente sulla bottiglia come al solito un'apertura abbastanza dolce vaniglia e cocco soprattutto a cui segue questo amaro caffettoso lupolo davvero non se ne sente si sente sì dopo il sorso un retrogusto effettivamente amaricante ma non riesco perfettamente a distinguere se lupolo o caffè si sente l'alcol sì se al naso era praticamente ben nascosto non c'erano toni vinosi particolari sì leggermente forse di cuoroso ma tutto sommato per avere 12 gradi era ben nascosto beh in bocca non è fastidioso ma a fine bevuta si sente che è una birra che insomma scalda ad ogni sorso ultima nota mi sembra di notare una leggera ma leggera leggera acidità non so se può essere data da un utilizzo dell'utilizzo del caffè che a volte può confiere questa cosa oppure una sensazione solo che in bocca io in questo momento che dire questa è una birra che sicuramente va bevuta con calma e così farò adesso durante le prossime ore questa era la Cocco Banger di Poyala Scol Scol